torniamo allora all'ambiente di amministrazione dovrebbe essere lì disponibile in una delle linguette del browser ancora aperto ora però devo chiudere la pagina perché altrimenti non posso scegliere il comando per andare a lavorare con i menu ora si vado in gestione menu oppure se volessi aggiungere il link che porta alla pagina in un di quelli che già esistono sarebbe sufficiente andare a scegliere uno di quelli già esistenti e forse potremmo seguire questa strada abbiamo il menu principale e quell'utente è il top menu disposti sul layout scelgo il top menu e scelgo di aggiungere a questo menu una nuova voce adesso è fondamentale capire che la prima cosa da fare è scegliere che tipo di link è perché è quello che decide tutto tipo di voce di menu non posso infatti scrivere ma solo selezionare da un elenco da questo pannello che vedete che è estremamente ricco mi sta chiedendo ok ma questa voce di menu a che cosa serve perché potrei avere un link a dei contatti a un singolo contatto a una tabella con un elenco dei contatti magari suddivisi in categorie potrei avere un link che mi porta a un motore di ricerca e così via un link classico ai link interessanti gli elenchi gestiti internamente di link interessanti magari suddivisi in categorie e finalmente abbiamo anche i link alle pagine ma anche qua possiamo distinguere tra pagine archiviate a un singolo articolo a un elenco degli articoli disponibili alle categorie per il momento scegliamo chiaramente un singolo articolo quindi il caso è più semplice link vai a quella pagina stop quindi singolo articolo qua sulla destra si srotola questo pannellino dove mi dice ah ok dimmi però qual è questo articolo faccio clic sul bottone seleziona e ho l'elenco di tutte le pagine di articoli presenti alcuni c'erano già quello che ho creato insieme a voi è questo public e ancora non categorizzato qui ritrovate semplicemente alcune delle impostazioni fatte prima faccio clic quindi sul pagina prova posso anche scegliere vai al link di prova di nuovo posso mettere anche forse meglio non mettere spazi ma non dovrebbero essere comunque problemi l'alias è un altro modo di descrivere questa voce di menu un'eventuale nota qui ho il link interno nella sua forma URL di nuovo posso scegliere anche per il link se vederlo quindi pubblicato oppure sospeso cestinato non mi sto a ripetere anche l'accesso è come quello che ho appena discusso pochi minuti fa per le pagine ecco mostra in quale menu abbiamo detto in partenza ma abbiamo scelto il top però da qui potrei cambiare idea e cambiare menu ma oltre a dire che deve apparire un certo menu la scelta è tra trasformare rendere quella voce principale quindi allo stesso livello di importanza quindi il menu apparirà semplicemente allo stesso livello sotto le altre voci oppure dire che questo questo link è un sotto link una sottovoce a un livello inferiore quindi dovrò prima fare clic sulla voce principale e a quel punto si srotolerà un secondo menu di secondo livello dove apparirà il link che stiamo inserendo iniziamo con il caso più semplice quindi sto aggiungendo una voce principale quindi lascio voce di menu principale posso poi scegliere se il link l'oggetto raggiunto dal link si aprirà nella stessa finestra oppure qua sotto le altre possibilità abbastanza banali che non sto a commentare se non forse che il termine con o senza navigazione fa riferimento alla presenza dei bottoni avanti indietro eccetera per appunto navigare adesso occhio perché questa questa voce che sembra non tanto importante in realtà è importantissima perché decide qual è la home la pagina di default quindi se voi una sola pagina per sito lo può essere di default fate clic su sì questa pagina diventa quella di partenza per il vostro sito chiaramente lascio no lingua il template da usare perché potrei anche scegliere per una pagina o una categoria di pagine un aspetto un template diverso da quello standard ma qui poi ci ritorniamo con una rivisitazione sui template dove vi spiegherò appunto come scegliere in modo puntuale le pagine non necessariamente tutte a cui applicare un certo template per il momento lasciamo quello predefinito cioè quello che ho scelto come predefinito per tutte le pagine del sito come prima tralascio per il momento le opzioni dettagliate per il menu lo vado invece semplicemente a salvare e chiedo subito di vedere il sito perché mi aspetto ecco qua nel top menu voce principale via link di prova clic e siamo sulla nostra pagina di prova ecco la lista che era l'unico elemento che avevo messo sulla paginetta notate come ci venga regalata la possibilità di stampare o di inviare per email la pagina con le opzioni che ho tralasciato ecco potevo decidere se vedere cosa vedere di queste informazioni provo il link e dovrei andare sulla pagina di youtube ah fantastico non c'è scanto anche se non è una scelta a volte furba perché i browser l'antivirus l'antimileware probabilmente tenteranno ferocemente di impedire alla vostra finestra di top up di comparire c'è comunque la possibilità di definire come tale un link quindi che porta a una finestrella che dovrebbe aprirsi in sovrapposizione tipicamente utilizzata per pubblicità o per attirare l'attenzione del visitatore su aspetti particolari ecco con un po' di mestiere se non approfondisco l'argomento trovate esempi in rete c'è anche la possibilità con un po' di lavoro a livello di javascript di migliorare le chance che quel pop up sia effettivamente mostrato anche per il pop up è necessario specificare un null vado a copiare e incollare quello di prima non per la finestra le dimensioni 400x400 il posizionamento o date le coordinate voi direttamente oppure se vi accontentate di quelle predefinite cc centrato cc centrato va benissimo qua avete anche l'ulteriore possibilità di specificare se devono essere mostrate in quel pop up le varie finestre e menu che vedete qui elencati ma possiamo tranquillamente ignorare tutto fare clic su aggiorna salva e poi vedi sito anche se non lo vedete perché è esterno il bottone e andare a provare quello che succede questo è il mio link che porta la pagina con questo fantastico link ecco il title che appare conosci youtube faccio clic e appare il pop up chiaramente il 400x400 è insufficiente quello che si fa di solito è preparare una paginetta html bella semplice pulita contenente il vostro appunto che corrisponde al vostro pop up come link quindi non metteremo davanti il prefisso http ma andremo a indicare magari guardando prima con vedi sito qual è l'indirizzo attribuito alla vostra pagina e richiamare appunto quella e noi avremo l'accortezza di dimensionare il contenuto in modo tale che in questo caso i 400x400 pixel sarebbero stati sufficienti a contenere tutta la pagina sono ritornato sul pannello la prossima linguetta è quella che vi porta agli eventi e qui dovete saperne di javascript e non a livello proprio elementare ma già almeno a livello intermedio per il momento vediamo che c'è soltanto la parte di codice che corrisponde alla risposta quando qualcuno fa clic sul nostro link e si intuisce almeno anche se non conoscete per niente il javascript che questo è il comando che chiede l'apertura di una finestra cioè del nostro pop up e a seguire un po' i parametri ok se siete in grado di fare modifiche prego altrimenti non c'è nessun problema il nostro pop up funzionerà in modalità standard è chiaro che io qui non posso mettermi a fare un corso javascript comunque esiste una mia playlist lo sapete nell'avanzate e sempre nell'ottica di chi se ne intende di html e javascript qua per lo più di html abbiamo la possibilità di stabilire i valori di queste proprietà quindi l'id inserire stile la classe l'appartenenza eccetera eccetera di nuovo se non siete in grado di configurare questa parte non c'è problema il vostro pop up funzionerà comunque proviamo in evidenza mettete su sì e poi ovviamente salvate ecco io non ho sottolineato prima ma ogni volta che facevo una modifica poi è sempre necessario salvare altrimenti non vedreste le modifiche attive clic vedi sito cosa è cambiato è cambiato che sulla home page avendo detto che quel link è qualcosa da mettere in evidenza ecco qui che la mia pagina di prova con il link me la ritrovo addirittura sulla home page l'immagine del tramonto è perfetta per darci appuntamento alla prossima puntata dove completeremo un po' l'esame dei bottoni e delle funzionalità disponibili nel pannello di costruzione di un articolo di un articolo di un articolo di un articolo di un articolo